Si è svolto giovedì 19 gennaio nella sala consigliare del comune di Pordenone il primo incontro del Consiglio Comunale dei Ragazzi dell'anno scolastico 2011-2012. 72 giovani consiglieri in rappresentanza di 11 scuole cittadine hanno illustrato al sindaco di Pordenone Claudio Pedrotti e agli esponenti della giunta comunale le loro proposte, i progetti e le aspettative sull'argomento di lavoro che quest'anno affronta il tema del rispetto. È stato un piacere vedere come appunto dall'iniziale così timore alla fine il nostro Presidente del Consiglio Nisco Bernardi ha avuto il suo da fare per fare in modo che tutti potessero parlare e fare le loro domande. È un bel inizio, poi avendo dato questo tema del rispetto come tema da svolgere su due anni penso sia stata la prova provata che il tema non solo è sentito ma viene anche sviluppato da questi ragazzi viene fatto proprio in modo quasi che fosse una priorità. Quindi è stata una cosa estremamente piacevole, bella, bellissima. Poi il fatto di avere i ragazzi qui, i nostri ospiti nella sala del Consiglio, così numerosi abbiamo cercato di fare in modo che potessero venire praticamente tutti rincuora e fa ben sperare anche per come la politica andrà avanti adesso, in futuro in Italia.